Non è la prima volta che questo accadeva nella sua famiglia, infatti anche al papà è successa la stessa cosa. Lo chiedo al signor Bruno, coetaneo del papà di Albano, perché? Non è la prima volta che questo accadeva nella sua famiglia così, con una canzone puoi girare il mondo, la tocche rotondo. Tacca, tacca, banda, che la vita va, canta che ti passa, poi un santo ci sarà. Tacca, tacca, banda, che la mente va, dove sta di casa la serenità. Na, 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 na. Siediti anche tu, qui vicino a me, contiati i poponi, quindi l'allegria sono tutti buoni. Uno, due, tre, canta insieme a me, con una canzone, fa girare il mondo da tocche rotondo. Tacca, tacca, banda, che la vita va, canta che ti basta, poi un santo ci sarà. Tacca, tacca, banda, che la mente va, dove sta di casa la serenità. Tacca, tacca, banda, che la vita va, canta che ti basta, poi un santo ci sarà. Tacca, tacca, banda, che la mente va, dove sta di casa la serenità. Alla prossima